Buongiorno a tutti, sono Egidio Massone, sono il direttore delle risorse umane di San Giorgio del Porto S.P.A., società controllata della Gino Holding. Mi trovo oggi qui a partecipare a questa interessantissima iniziativa perché San Giorgio del Porto, ma come anche le altre società che fanno parte del gruppo, investono tantissimo su risorse umane, su competenza, affidabilità e preparazione del nuovo personale che dovrà entrare e che sarà previsto che entri in azienda. Diciamo che nello specifico San Giorgio del Porto sta ricercando delle figure di un certo tipo che vanno dal project engineer al project manager piuttosto che allo ship manager, quindi figure che abbiano una competenza di tipo navale non soltanto universitaria peraltro ma anche proprio operativa sul campo, ne può derivare magari una preparazione o una esperienza di tipo navale, quindi marittimo, sulla parte coperta o la parte macchina. Diciamo che tendenzialmente la realtà nostra è questa, quindi siamo aperti ad ogni tipo di iniziativa che anche le autorità, le pubbliche amministrazioni possono individuare per assisterci in questa fase di recruiting e speriamo di poter comunque ottenere dei risultati positivi dal punto di vista dell'individuazione di risorse skillate, di risorse capaci, anche con capacità che non siano di natura hard ma anche siano di natura soft perché un altro degli obiettivi molto importanti di San Giorgio, ma ripeto sempre anche di holding, è quella di allargare il campo ad un organico che abbia una preparazione, una capacità anche su aspetti di natura di gestione comportamentale, gestione del team, gestione del conflitto, comunicazione e quant'altro, quindi importante il tecnicismo ma altrettanto importante anche la capacità caratteriale di gestione delle risorse o comunque del lavoro sotto quel tipo di profilo.